Un saluto e ben ritrovati dal Tg della Mobilità. Terminate le festività pasquali nel rione Prati, sono ripresi gli interventi di potatura dei platani che si trovano in viale delle milizie. Fino alla metà del mese di aprile, questa al momento la data di fine lavori, i tram della linea 19 limiteranno le corse a Valle Giulia e saranno sostituiti da bus fino a piazza Risorgimento e viceversa. Inoltre tra le 7 e le 18 dei giorni feriali insieme alla navetta bus 19 saranno deviate su percorsi alternativi anche le linee bus 70, 490, 590, 913 e 990. Inoltre la linea 913 viene limitata. Tutti i dettagli sul sito romamobilita.it